Eccoci qua, buonasera a tutti, siamo rientrati tre minuti fa dopo lungo viaggio da Roma perché sulle infrastrutture e sui collegamenti della nostra città molto ci sarebbe da dire e molto ci sarà da dire visto che ancora oggi dopo la riapertura totale della nostra regione così come dell'Italia ancora c'è solo un volo dell'Alitalia che ci collega e stiamo ovviamente trattando con Trenitalia dell'aumento dei molti convogli, alcuni partiranno questa domenica tra cui un nuovo Frecciarossa di cui siamo lieti ma certamente non può bastare e continueremo la nostra battaglia perché in questo momento di difficoltà ma anche di grande volontà di ripartire abbiamo bisogno di collegamenti assai più spediti per portare turisti, per far muovere i cittadini e far ripartire l'economia della nostra regione così come abbiamo bisogno glielo stiamo dicendo che il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti batta un colpo sulla situazione delle nostre autostrade che di colpo sono diventate un gigantesco cantiere ben vengano le messe in sicurezza ma ben venga anche la possibilità per i cittadini di muoversi nel nostro territorio. Detto questo siccome stasera la conferenza stampa è stata fatta da Sonia Viale che ha già dato i numeri ma non ce l'avamo ancora visti in questa pagina di Facebook come ogni sera e come promesso voglio condividere con voi tutto quello che riguarda l'emergenza Covid che ancora non ci ha mollato del tutto anche se i dati sono ancora confortanti anche oggi. Oggi abbiamo fatto 1.631 tamponi 122.654 dall'inizio di questa emergenza e al di là di quello che qualcuno sostiene per numero di abitanti siamo tra le ragioni di testa per numero di tamponi effettuati calano ancora i positivi nel nostro territorio regionale sono 2.167.37 meno di quanti non fossero ieri secondo quello che invece è il bollettino tradizionale della protezione civile stessi dati comunicati da noi ma scritti diversamente oggi abbiamo solamente 10 contagiati in più e credo che questo sia un numero significativo e confortante calano un po' in tutti i territori come diciamo spesso 322 a Savona solo 65 a Spezia 228 a Imperia 1550 a Genova che è stata la quarta la quinta città per numero di contagiati di questa emergenza e quindi se essersi ridotti a meno della metà è un numero ovviamente significativo calano ancora il numero dei ricoverati che sono 3 in meno 110 ci ricordiamo tutti quando erano quasi 1.400 tre sole terapie intensive e questo ovviamente ci riconforta calano anche gli asintomatici ovvero coloro che fanno la malattia a casa che sono 34 in meno e crescono i guariti con doppio tampone positivo che sono 46 in più e raggiungono 6.183 bene un ottimo risultato 447 sono i soggetti in questo momento in sorveglianza attiva sul nostro territorio regionale molti meno siamo arrivati ad averne molte migliaia e quindi direi che anche questo dato è coerente con tutto quello che ho detto fino adesso e per fortuna abbiamo solamente una scheda di un decesso dell'11 di giugno una persona sola nelle ultime ore e salgono comunque a 1512 ed è un triste bilancio però il fatto che anche la mortalità nei nostri ospedali si vada riducendo e riducendo molto sensibilmente questo sia un segnale confortante quello che mi dicono i nostri medici dagli ospedali anche poco fa ci siamo messaggiati con il professor Bassetti e con altri direi che la situazione francamente è coerente e continua a scendere così come avevamo detto e probabilmente come pronosticato anche in un'intervista di alcuni giorni fa dal professor Riccardi nel mese di giugno arriveremo sostanzialmente a contagi tendenzialmente zero. Devo anche dirvi che oggi si è svolta una conferenza straordinaria delle regioni perché tra poche ore il governo probabilmente firmerà un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che sostituirà il decreto che decade nella notte tra lunedì e martedì prossimo. Noi abbiamo già fatto alcune ordinanze una la faremo ancora domani nel decreto concordato con il Presidente del Consiglio dei Ministri sono state recepite le linee guida delle regioni per molti campi come sapete ne abbiamo aggiunti ancora altri quindi tutte le categorie economiche che devono, stanno, possono riaprire o riapriranno a partire appunto dal 16 o nelle settimane successive evidentemente hanno delle regole da seguire che sono state fatte dalle regioni e proposte dalle regioni al governo in modo crediamo sensato e equilibrato per mettere in sicurezza la nostra salute ma anche per consentire di poter lavorare alle persone ed è giusto che si torni ad aprire, che si torni a vivere perché in questo momento i numeri che ci arrivano sul fronte dell'economia sono francamente disastrosi parliamo di alcune centinaia di migliaia di disoccupati oggi ma con una stima in crescita gli ordinativi industriali, il prodotto interno lordo che cala di molti punti percentuali, gli inattivi cioè coloro che sono ancora oggi scoraggiati e che quindi non cercano neppure un lavoro sono tutti indicatori che ci dicono che il nostro nemico è stato il Covid ma oggi il nostro nemico ancora più accanito, ancora più pericoloso è la crisi economica che dobbiamo battere con regole serie, con investimenti, con misure che mi aspetto che il governo non solo prenda ma soprattutto applichi perché è inutile prendere cassa integrazione, inutile prendere sussidi, inutile decidere aiuti alle imprese che poi di fatto non arrivano e questo è un grande tema ovviamente di queste ore comunque dal 15 si ripartiranno, abbiamo già detto che in Liguria potranno partire ad esempio le sagre c'è il tema delle discoteche e del gioco legalizzato che è stato affrontato oggi le cui linee guida delle regioni approvate oggi dovrebbero essere recepite nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che prevede, è vero, che discoteche, locali da ballo e sale giochi ripartano solo il 15 di luglio questo decide il governo ma dà anche alla possibilità alle regioni di aprirle in anticipo cosa che noi abbiamo intenzione di fare, domani ci sentiremo con molti governatori delle altre regioni per trovare una data che sia coerente, omogenea e che sia ragionevole per tutti ovviamente alla luce dei dati epidemiologici certamente la regione Liguria non aspetterà il 15 di luglio per riaprire questi locali che fanno parte integrante della nostra offerta turistica ricreativa che deve al più presto ripartire. Poi è stato fatto un gigantesco lavoro è prodotto un documento, cosa importante riguarda settembre ma settembre è domani mattina e dopo l'odissea vissuta dai nostri figli e dai nostri nipoti nelle scuole e dalle loro famiglie, credo che sia opportuno dare dei segnali di tranquillità e tranquillizzazione. Allora abbiamo approvato un documento scuola che prevede delle linee guida per i ragazzi che torneranno anche queste fatte dalla Commissione Tecnica delle Regioni che ha fatto uno straordinario lavoro e che abbiamo mandato oggi al governo per aprire con il Ministro Azzolini speriamo in tempi molto molto rapidi un confronto anche con il governo. Si tratta di regole basilari, il distanziamento da un lato ma anche l'uso delle mascherine solamente quando ci si alza dal banco e non costringere 5 ore i nostri ragazzi a stare con la mascherina seduta al banco abbiamo dato alcune rassicurazioni per quanto riguarda ad esempio le menze scolastiche che potranno riaprire ovviamente con tutte le precauzioni e le regole dell'attenzione che ci sono anche nei ristoranti e negli altri locali pubblici ma è giusto che i ragazzi che vanno a scuola possano avere un pasto caldo cucinato secondo criteri nutrizionali seri e non doversi portare come si dice il panino da casa e quindi questo vuol dire anche ovviamente dare qualche certezza le molte migliaia di lavoratori delle menze scolastiche che potranno tornare a lavorare perché se dapprima nelle prime versioni delle linee guida nazionali si escludeva la possibilità di riaprire le menze noi invece come Regione abbiamo deciso come conferenza delle Regioni che le menze fanno parte integrante del sistema scolastico e debbano riaprire con tutti gli elementi di sicurezza. L'ultima cosa, domani mattina una cosa importante, presenteremo una grande campagna di promozione del nostro territorio che vale molte centinaia di migliaia di euro, la più grande mai fatta in Liguria su tutti i media nazionali, televisione, giornali, stampa periodica, stampa quotidiana, internet, facebook un lavoro gigantesco fatto dall'Agenzia Turistica in Liguria, dall'assessorato al turismo che speriamo possa essere proprio in queste giornate in cui i cittadini italiani decidono quale sarà il loro prossimo futuro ieri c'è stato l'ultimo giorno di scuola anche per le lezioni di didattica a distanza quindi mamme con i figli, persone che vogliono lasciare dopo un lungo inverno e una lunga primavera anche cupa le loro città per qualche giorno di svago speriamo tanti che vogliono prendere una boccata d'aria nel nostro straordinario, straordinarie coste anche oggi molti indicatori ci dicono che il mare più bello d'Italia è quello della Liguria e anche questa pagina facebook ne avete avuto ampia testimonianza con delle bellissime foto quindi domani mattina presenteremo anche questa campagna e poi presenteremo, è già stata presentata agli operatori turistici, la presenteremo alla stampa e poi ci sarà una serie di incontri sul territorio, io per esempio già lunedì prossimo sarò nel ponente Ligure per incontrare sindaci, operatori di categorie per vedere come sta andando questa grande riapertura della nostra regione e del nostro paese queste sono in sintesi le cose nuove di oggi ci tenevo anche a chi ci segue con affetto su questa pagina facebook a dargliele personalmente anche se è un'ora un po' tarda ma sono arrivato solamente adesso a Genova dopo una giornata a Roma dove abbiamo riaperto la sede di Regione Liguria, riallacciato i rapporti che il virus, il covid e la chiusura delle aule parlamentari avevano ovviamente interrotto ci siamo occupati di incontrare imprenditori, persone, oggi ho incontrato anche una grande casa di produzione cinematografica e televisiva che vorrebbe girare una grande fiction nel nostro territorio Ligure speriamo si possa concretizzare che vuol dire posti di lavoro in questo territorio, vuol dire pubblicità per il nostro territorio insomma stiamo tornando tutti pian piano alla vita normale credo che sia esattamente quello di cui la Liguria e l'Italia hanno bisogno perché in questo momento altrimenti ripartire sarà sempre più difficile io vi auguro una buona serata e lavoriamo un po' e poi stasera chi vuole seguirci ci trova anche ospiti di Palo del Debbio su Rete4 intorno alle 11, 11.15 che parleremo proprio ancora dell'emergenza covid del fatto che questa sta certamente scemando e di come talvolta qualcuno ancora oggi gioca a calcare la mano, a instillare paure mentre invece questo paese ha bisogno di notizie vere, certe e di tranquillità insomma un derby un po' macabro, certamente inutile tra chi cerca, si impegna sapendo ovviamente di dover affrontare ancora dei rischi davanti a far ripartire questo paese chi invece forse per interesse, forse per paura forse per talvolta malinterpretato spirito di sicurezza continua invece a calcare troppo a mio avviso la mano sulla paura mentre invece in questo momento abbiamo bisogno di dare a cittadini, imprenditori e famiglie fiducia fiducia nel futuro, fiducia nel nostro sistema medico fiducia sul fatto che il covid sta calando fiducia sul fatto che il paese e la Liguria ce la faranno ci vediamo per chi vuole più tardi e chi ne va a dormire io riprendo possesso del mio ufficio dopo 24 ore perché tante cose abbiamo da fare ciao a tutti grazie a tutti